Musica Gentilissimi spettatori Halo Roche, hai il piacere di presentarvi i due indimenticabili Ciao Amanda, ciao Omar, come stai? Benissimo, guarda che bella giornata, il sole Oggi andiamo a Torino a trovare Titti Garelli e Plinio Martelli, va bene? Due artisti meravigliosi Andiamo Dai, andiamo Buongiorno, ma noi siamo venuti a trovare Titti e Plinio Andiamo a trovare, ci sono in camera, sì Non ci permesso, grazie Che bello, che bello Ciao 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 Titti Ciao Titti, bella gioia Ciao Plinio Allora, guarda che bella giornata, posso togliermi la gialla? Grazie Benvenuti Ciao Eccoci, siamo qua nella casa studio di due grandi artisti, due maestri che tutti conoscono, Titti Garelli e Plinio Martelli. Ciao Plinio! Sono con Amanda De Mar che rappresenta la bellezza, io dovrei rappresentare l'arte, speriamo di bene. E poi ci sono le stelline di Social Model che sono le stelline anche di Stiprino, di Titti. Allora, hai visto che carina? Poi c'è Melody che è meravigliosa, Melody, tu, Melody, il tuo nome è Melody, hai un nome d'arte? Pinky. Pinky, meraviglia. Ti vede direi. Barbara, tutti, tutti, chi ti chiede Barbara? Io sono Barbara, hai l'arte Biancaneve. Biancaneve, meraviglia. Io sono Serena, oggi sono Alice. Il paese delle meraviglie. Allora adesso io direi sappiamo questo tutto. Gringiamo a questa riconda. Agli amici, agli torri. Allora tocca a me, io spero il bene. Siamo sicuri. Mi raccomando non fare l'arte. C'è un sistema tradizionale. Ecco qua, ecco qua. Non abbiamo la barchetta. Non ce ne frega niente della barchetta. Noi siamo artisti, ce ne frega. Io prendo. Comincio. Ecco qua. Allora. Oh, togliamo lo stupaccio? No, vai, vai, vai. C'è un... Oh... Uno, uno... Non facciamo pubblicità, per carità. Ecco, facciamo... Alzatevi pure, così prendete un po' di vino, lo beviamo indietro. Grazie. 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 Eccoci. Grazie. Volevamo il caffè, però ti ti ha detto che preferisci il prosecco, tutto? Sì, è vero. Vabbè, anche il caffè, però a quest'ora della mattina è meglio il prosecco. Cioè è difficile che trovi uno. Tiene la mano ferma. La mano ferma. Ligno? Ligno, come avete visto, si distrae... Facilmente, facilmente. Anzi, poi facciamo i conti. Facciamo i conti, sì, sì. Lo facciamo. Facciamo i conti, bene. Bene, allora prendiamo la latte. La latte, la bellezza. La bellezza. Ecco, i colori sono tanti, cin, 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 cin. Tutto la messina. Bene, buonissimo, meraviglia. Brindare con questi cuari, queste opere. Questo è più bravo. Eppure c'è anche il libro rotto di Mao Tse Tung, quello che è originale, quello che è originale. Quello che è originale, lo buttiamo via. No, no, in genere sta sotto il Buddha piangente. Eh, però oggi, per l'occasione, abbiamo deciso di non farlo piangere. Mi dici cos'è questo libro rosso? Questo qui, negli anni... Sì, fino al 65, credo, inizia. Dal 65, in Cina c'è stata la rivoluzione cinese. Rivoluzione culturale, che per voi non eravate neanche ancora nella mente del signore. No, non c'eravamo. No, non c'eravamo. Sì, perché hanno eliminato l'oligrafia del re, eccetera, io l'ho dito. No, l'ho dito in Giappone. In Giappone, ma più o meno c'era qui. Sì, c'era. Non c'era? Non c'era? No, c'era la rivoluzione. Non chiedi inostrarti il discorso, non con tu vincià. Anche l'oligrafia di questo prende piede. E io so tutto. Ma poi dormiamo qualcosa, oggi non lo so. No, no, questo qui era Mao, ha preso il potere e tutti dovevano capire, senza avere, è allo stesso modo. Questo qui era il libretto rosso che dettava le massi, aveva le regi, vita nuova, no? E ce l'avevano. Come nell'arte ideologica. Come nell'arte ideologica si è quasi la vita. Dove tutti devono pensare in parte. In Italia. In Italia anche nel mondo. Ci stanno a vedere Mao Zedonga. Adesso si progettano. Però noi siamo, anche noi, abbiamo delle piccole dittatorie in giro che vagano. Dai, non vaghiamo però. Non vaghiamo di tizzi. Parliamo di tizzi. Non è proprio qua, c'è un'opera di tizzi. Parliamo di qua. Questo è l'ultimo quadro di tizzi. Questa è l'ultima natura. L'ultima creatura che sta per partire, va in questa mostra di Gerasco. che si chiama African Style e che si inaugurerà il prossimo sábado, 17 ottobre. Magnifico. Benissimo. Questo invece è partito di una serie dedicate al vino e all'uva. Ah, per il giusto. Esatto. Anche perché il vino è la parte della nostra cultura italiana. È una delle conseguenze del nostro... Perché dobbiamo sempre ignorare le cose buone che ci rendono famosi. Noi non le ignoriamo. Noi le pratichiamo anche. Le acquistiamo anche. Lo stesso che sia. Noi le pratichiamo come un culto. Ma queste stelline che tu ti indi per le tue opere o anche... Si, lo fanno anche da modelle. Non tanto in questi lavori qua che sono lavori più le tuspi. Parliamo un po' di questi lavori qua. Sono lavori storti, eh? No, piccolino. Eh? Piccolino. Un giusto migliato. Dove, dove? Sulla camiglia. Ah, vabbè. Non si può vedere. Sì, sì, non è... Non si può vedere. Non si può vedere. Non si può vedere. Non si può vedere. Era nata l'idea negli anni 70, dove in periodi in cui ho scritto alcun libro sul tatuaggio, con la metafora della figura. Sono tutti personaggi dei primi del Novecento. Cioè, voi che siete giovinetti, pensate al tatuaggio, quello che c'è oggi in giro. C'erano personaggi nel 1850, 1860, che si tatuavano così. Poi erano galeotti, marinai, marinai, bucanieri. Persone che vivevano teoricamente al margine un po' della società, i cosiddetti un po' malavitosi, che erano anche i più simpatici. E avevano, non so, tatuati sul loro corpo tutto il loro diario. Cioè, gli amori, gli odi, i simboli, quello che facevano, eccetera. Io cosa ho fatto? Ho cercato negli archivi di polizia, specialmente in Francia. La Carmole dell'Ombroso. La Carmole dell'Ombroso, eccetera. Le fotografie segnaletiche di questi personaggi, quei tatuati, ingrandite a queste dimensioni e ripringendo tutto il loro tatuaggio, li ho fatti ritornare a un discorso di opera d'arte. Cioè, da pittori antelitteram, ritornano. Anche perché allora la fotografia a colori, penso, non esistesse. No, la fotografia a colori non c'era. Poi negli archivi erano tutti in bianco e nero, no? Poi in realtà i tatuaggi... E allora era interessante. Era in bianco e nero, perché solo i giapponesi tatuavano i tatuaggi a coloro giallo. Poi sapete che erano tatuaggi molto, anche dolorosi, perché le facevano con i chiodi, con le punte, con gli spinni. Ma io non ero nel paracatutite della fondo, perché anche io ho un tatuaggio fatto con gli spinni. Molto doloroso. Perché l'altra... Poi chiaramente c'è tutto un altro lavoro, però, che io faccio con le stelline, con le modelle, eccetera. In questo caso stanno interpretando dei personaggi, delle fiabe. Lei Alice, ce l'ha in Felicottero? L'ho portato io, però... Alice fa sempre in giro con il suo felicottero. Alice non ha il Felicottero, non ha il Felicottero. Non ha il Felicottero, non ha il Felicottero. Come fa a giocare di... Come si chiama questo Felicottero? Si chiama... Gijo. Sì. Sennò come farebbe a giocare a crocchè se non avesse il Felicottero? E anche io col mio bastone, col te. Tu puoi scelere una presenza in Pietà. E allora, se gioca col Felicottero... Si detta così. Poi c'è... Lei ha il nano. Lei ha il nano. In questo caso il nano. Il nano pittore. Il nano pittore. Eh sì. In quel caso lei è il nano pittore. E invece è meno della sfera magica, perché è un po' come una maga. Eh sì sì. È la sfera magica. Faccio molto immaginare. Eh. Cosa vedi nel nostro futuro? Se guardi nella sfera, vedi degli strani personaggi. Nel nostro futuro. Nel buono, nel nostro. Nel nostro. È il problema in trance. Il problema dice troppa luce. Sì. Non è vero. È un futuro incerto. È un futuro incerto. È un nebbio. È un nebbio. È un nebbio. Nel biolo siamo a Torino. Non c'è già... Ma si stupone. Ma bene. Sappiamo dove avre. Bene. Abbiamo dato... C'è anche un esempio di... Abbiamo dimostrato che sappiamo chi è Mao Tse Tunga. Questo. Sappiamo che i tatuati comunque erano... Ma poi ci sono le sorelle d'Italia. Sì. Ma era già. Nella realtà del senestre che c'è una mostra a piedi adesso. È anche una bella cosa, l'ho vista, molto bella. No, ma poi voi siete molto particolari. Perché generalmente gli artisti litigano con le mogli. Invece voi no, mai. No, perché sono entrambi artisti, secondo me. E quindi alla fine... Ma sarebbe più semplice litigare... Ma guarda, non è mica una garanzia. Il segreto del nostro successo, come diceva Volta, è il fatto che noi facciamo due cose totalmente diverse. Non ci facciamo concorrenza. Anche se adesso Pigno spesso manifesta un po' di sofferenza nel fatto che fare il monstre con me. Però tu devi fare una ragione. Devi fare una ragione. Per una ragione, lei è brava, geniale. Dopo 42 anni di matrimonio. Dopo 42 anni. Tu mi capisci. Ma io ho 45. Eh, quindi, vedi. Titi, ma tu hai una tecnica molto, molto raffinata. Vedo in questo quadro anche il fondo oro, la pittura. Ma usi olio, degli oli o delle tempere? O degli acrilici? Uso gli acrilici. In realtà sarebbe più facile usare l'olio. Però l'olio richiede dei tempi di asciugatura. Perché tutti pensano che l'acrilico sia più facile, invece è esattamente il contrario. L'acrilico è un colore abbastanza duro. L'importante è che si usi con le velature. Con le velature, con questa tecnica, che è quella delle velature, si può adoperare qualsiasi mezzo. L'acquarello, e ho fatto tantissimi lavori, soprattutto nel passato, con gli acquarelli. Si può usare l'olio, ovviamente, che è la tecnica più antica, che però ha, nel mio caso, delle controindicazioni che sono la lunghezza. I tempi di asciugatura. Allora, siccome io sono sempre in lotta con il tempo... E come tutti, ormai... E quindi ho bisogno di qualcosa che sia più sportivo, per riesca a dominare... Comunque, tecnicamente, è in manovra città. Invece vediamo queste opere con delle ragazze, delle bambine. Qual è la tua vera ispirazione, appunto, per la realizzazione dei quadri? Intanto, io faccio un discorso anacronistico, oggi come oggi, perché nessuno ne parla più, però il mio tema, il mio lavoro, è incentrato sulla bellezza. Quindi, niente di più adatto di questa incontra. La fedenza femminile... Allora, l'archetipo della bellezza è, ovviamente, la figura femminile. E c'è poi un momento nella vita della donna, che è quello che va dall'infanzia alla giovinezza, che è un periodo, per me, ineffabile, bellissimo, dove si raggiunge il massimo della perfezione. Come dicevo, avendo come tema la bellezza e la giovinezza, anche, di volta in volta l'ambiento... Io le faccio raccontare delle storie. In quel caso, nel quadro su Cavalletto, c'è una storia sul nostro territorio, sul vino, su quello che è l'eccellenza della nostra terra, che io, comunque, amo e quindi cerco di rappresentare, non dimentico. In questo caso, cerco di avere questa... Ho questa visione veramente femminile e lunare. Non a caso si chiama Moon Moth Queen, Moon Queen, perché questa falena è la falena della luna. Diventa, quindi, quello della ragazza, della fanciulla, è un tema che può vestire per tutte le occasioni e può avere una declinazione in ogni... E anche queste fanciulle ti ispirano? E certo, certo, certo. Questa serena, come è messa. Io sono sempre alla ricerca... Come è messa. Anche se è un grande concorrente in famiglia. Beh, lui è un concorrente, però... Sì, perché... Lui, dall'alto, dalle sue presenze dei musei... Sì, sì, io vivo sotto il pero, sai, raccolto... Sotto il pero... Che lui, la fera che viene... Non montargli la testa. Ma quello bastone dopo. Lo bastone dopo. Di notte, ma a vedere, mi ruba l'idea. Eh, è un bianco. Non è che è il video. Non è che è il video. Però il video è molto più, diciamo, più concettuale. Devo dire che, per esempio, sulla doratura... La doratura me l'ha fatto. Tu fai le dorature. Tu indori la figlia. Sì, indorati. D'altro, lui aveva cominciato... Anche lui ci ha i testi. Aveva cominciato con i tatuaggi d'oro. Bellissimi questi tatuaggi. Con i tatuaggi qui dorati. E lì, l'oro che usciamo quasi. Questo è molto piccolo, molto piccolo. Tu hai fatto una serie di tatuaggi d'oro ritoccati, molto belli. Sì. Tu hai fatto anche delle belle immagini, sia con... Sua Rivara, con il nostro amico Luca Beatrice, con Palloletto, con Brandi Palloletto. Sì, con Luca Beatrice abbiamo fatto il libro sull'Italia. L'Italia sedesta. L'Italia sedesta. L'Italia sedesta poi per davvero, ma... Sì, ma no. A parte che noi l'abbiamo fatto nel 2004. Era già a destra allora. Era lì. Poi per i 150 anni di Italia l'abbiamo ritirata fuori, abbiamo messo a varie mostre questi tagli più o meno magre, più o meno grasse, secondo gli andamenti. Plinio, sappiamo che oltre alla pittura ti dedichi anche alla fotografia. E diciamo che il tuo genere viene definito tra l'ironico e l'erotico. Noi abbiamo un esempio, per esempio, appunto qui davanti ai nostri occhi. Sì, la fotografia è iniziata, che non da sempre, prima col cinema e poi la fotografia. In questo caso, di questo lavoro qui, sono delle ricostruzioni usando quadri o antichi, quadri particolari, ma sempre un tipo un po' storicamente chiacchierato e poi ricostruiti in studio con delle modelle. In questo caso è la Meduse tratta da un quadro di, chi sa chi è il quadro? Gericol. La pittura è lei. Un quadro di Gericol dove c'era una storia fantastica su una zattera di sopravvissuti che erano stati poi ritrovati, eccetera. In questo caso è una metafora sulla pittura in realtà. Questa zattera ritrovata con la modella che rappresenta la pittura, con il cavalletto, eccetera. È stata tutta una ricostruzione in studio. Ho ripreso il quadro originale di Gericol, poi ho ricostruito in studio con le luci la modella, eccetera, e poi viene sovrapposta e mischiata, entra dentro l'opera d'arte. Ma anche tecnicamente è molto. Sì, tecnicamente questi qui. Oggi uno si avvale un po' delle tecnologie digitali, eccetera. Si facevano già una volta con i negativi, soproponendo i negativi, eccetera. Era un po' più complicato, un po' più... Anche a meno di funzionare meravigliosamente. Funziona come... Perfetto. 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 Perfetto di giocattoli. In questo caso ci sono tutti questi lavori di rifacimenti o portare dentro opere d'arte la modella. Anche questo bronzetto è carino. Questo bronzetto. Sì, il bronzetto è nuovo. C'è questo personaggio qui, probabilmente russo. Poi là ce ne sono anche molti. Sono tutte metafore. Puoi inquadrarli, se vuoi. Sono tutte sculture che rappresentano poi i mestieri. Qui c'è il fabbro col martello, perché noi lavoriamo col martello. C'è... Ma vedo che sono incudine, ci sono doppie incudine e un anetto. Sì, c'è un anetto. Quello del solito è un anetto che è quello che crea i problemi a tutti. L'artista, giusto? Sì, l'artista. Si, l'artista. Si infila, si intruisamente. Ecco, allora qui abbiamo Titti e Plinio. Io vi volevo fare delle domande un po' trabocchetto, se volete. Allora, abbiamo Serena, che come vedete è una bellissima ragazza. Non si può commentare. Grazie. Tu, Titti, che cosa dipingeresti se avessi come modella adesso, in questo momento, Serena? Allora, siccome io ho un progetto che coinvolgerà anche lui, tra l'altro, per il prossimo anno di sante e madonna, però madonna e sante viste col mio occhio, quindi non saranno proprio delle robe devozionali, no? Quindi un po' riviste. E beh, lei le farei fare una santa. Santa serena. Santa serena. Allora, adesso vedremo, devo andare, mi sono fatta arrivare la leggenda Aura, dove ci sono tutti i martirologi delle sante, e quindi devo trovarne una che si è adatta a lei, una santa nordica, potrebbe essere svedese. Una gonda, questi nomi così, stanno un po' strani. E lei potrebbe fare la santa per questa cosa che faremo a Fossano nel 2016. E invece tu prima cosa farai? La santa possiamo farla, le sue sante sono un po' più liaratiche, le mie sono un po' più... Meno santo. Prima di diventare santa. Per un uomo. Un uomo più vivace. E quindi un uomo più vivace. Lo sapevo bene. Sì, poi la facciamo, Alice bisogna farla, Alice del prese delle meraviglie, con il felicottero, il coniglio, il capellario matto, eccetera, che proprio finisce che Alice poi ammazza tutti e rimane lei solo la protagonista. Non esclare l'altro. E diventa santa nordica. E diventa santa dopo. Poi chiederemo anche di Melodi. E adesso passiamo a Melodi, in arte e pinchi, abbiamo visto dalla sua capigliatura. Su di lei, che cosa vedreste bene rappresentate in un'opera d'arte? Beh, visto che ha questo teschio d'oro, che tratta con tanta naturalezza, io farei un'altra regina gotica, ne ho già fatta una, con una corona e un teschio. E in questo caso io vedrei bene un'altra regina gotica con uno skull. Io penso che la ritrarrò così. Bravo, bellissimo. O con Melodi anche, è un po' che collaboriamo assieme nelle immagini, nelle costruzioni delle immagini, abbiamo fatto vari temi. La Madonna dovremmo farla. Dovrei farla santa per un po' di giorni, allora dobbiamo farla santa. Poi una cosa divertente che abbiamo fatto e che rifaremo è la guerra indiera, che sarà esposta oltretutto nella mostra a Kerasco sull'Africa. Allora c'è lei in tutta mimetica e cose. La giungla proprio. Sì, la giungla. Poi con lei altre cose, perché poi ogni volta che la guardo, ogni volta che arriva da gli studi è diverso. Diverso, si cambia. L'ultima volta era bionda, bionda è bicolore. Sì, poi è stata grigia. Perché qui è blu, è blu e rosa. Sì, sì. Sì, fotografare le belle non è facile. Quest'è una di gusto. Non lo so. Ci fidiamo della sua parola. Io ho sempre pensato a non essere più facile fotografare le persone belle e le persone brutte, ma io non adoro parole. Non abbiamo voci in capitolo. Non vi ridistratto poi da tutte queste cose. Ah, bene. Bene. Adesso abbiamo capito cosa fareste con Serena e con Melody. Poi c'è Barbara. C'è Barbara. Tu cosa ti ispira? Io Barbara la vedo molto medievale. Medievale, che meraviglia. Quindi, non so, ne farei una regina medievale, che ne so, una specie di Teodolinda, meraviglia, 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 con questi bellissimi capelli. E Plinio con la turlindana. No, Plinio la lasciamo da casa. No, Plinio la lasciamo da casa. Le ho già con la turlindana. Poi pure arrivano più. La cilogia con la cilogia. No, no, Plinio la lasciamo da casa. Lei per me fa la regina medievale. Medievale. Sì. Quindi, sono meraviglia. Lei è un po' una new entry perché, diciamo, dobbiamo... Lei è assoluta la vostra. Sì. È arrivata da poco, eccetera. E allora bisogna... Adesso c'è Biancanera, va bene, con il nano, che poi sono io, in realtà, questo... Ah, che somiglia a Paletti. No, così. Sì. Però prima di togliersi i baffi, però. Eh, però, va bene, è la metafora dell'artista, il pittore. Il pittore, il nano pittore. Che poi il nano è buco perché sguscia sotto, sguscia... No. Il nano, voi non vi ricordate, che era un pittore famoso, otto rimedio, che non era molto alto. Era più... Forse tabusso. Sì, forse tabusso. Il quale, a parte che non era più tolto, con il tempone, era abbastanza divertente. Una tavolata come questa, non lo trova di più, lo trovi sempre sotto il tavolo. Cioè, scappava. Tu però sei cresciuto molto. Io sono cresciuto un po' di più. Di più, un paio di centimetri. L'idea del nano, o il nano o il folletto, anche perché chiamo i nano e i folletti, sono una presenza costante dappertutto, anche se non ho un'idea del Parco Rignone, c'è un metro o quattro che abitano sotto il pino, noi in frigo ne abbiamo, l'estate stanno in frigo, l'inverno abitano nel forno, in tutte le case ci sono poi dei nani, che sono quelli che fanno sparire la roba. Noi spostano, spostano le staviglie, poi non trovi le calze, sono tutte spaiate dappertutto. Sì, allora lei tanto, io me la vedo, non per dire perché vive vegeta, magari un po' in una scatola di vetro un po' mummificata, tipo le madrile di cera. Quella di Elivara. Ecco, adesso siamo in chiusura di questo nostro meraviglioso incontro nello studio, nell'abitazione di Titti di Plinio, con queste meravigliose stelline, e io vorrei chiedere alle nostre stelline una battuta finale, tu ad esempio Melo di cosa diresti? Perché hai questo teschio in mano ad esempio? Questo teschio, così bello e così affascinante, era mio marito, il mio ex marito, il mio marito. Luca. Luca. Giusto? Ah, infatti. Tutti chiedono di lui ma non sanno la verità, è qui davanti a tutti voi. Praticamente lui ha fatto una cosa bellissima, mi ha fatto innamorare e visto che non volevo che si perdesse, l'ho voluto ricoprire d'oro, così tutti quanti si sarebbero ricordati di lui. meraviglia, questo è vero amore secondo me, vero amore. E tu invece? Io sono qui con un esponente, uno dei fortunati che ho liberato perché faccio parte del movimento di liberazione dei nani da giardino. Ma che meraviglia, Svizzera, da parte del movimento Svizzera. Sì, 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 sì. Cosa mi fai di questi nani liberati? Eh, li porto nel mio giardino e li accudisco. Ne avrai migliaia. Sì, sì, almeno 3.000 di ore. Che meraviglia, anche questa è una bella cosa. E tu invece, Svizzera? Io sto impersonando il ruolo di Alice, questo è il mio fedele Felicottero, in realtà c'è anche il bianconillo, però è un ottimo scomparso, c'è rimasto solo lui. Ecco. Sì, sì. Però guarda, non scoraggiarti, questo è già un momento di meraviglia. Un momento meraviglioso. Un momento meraviglioso. Quindi, cercando molto, adesso sembra che anche il nostro governo abbia promesso cose meravigliose. No, no, ma il governo è importante per noi. Come avete visto, oggi abbiamo parlato appunto di quella che è l'arte, con Titti Gherelli e Puglio Martelli, e anche di quella che è la bellezza rappresentata appunto dalle nostre stelline di social model. Vi ringraziamo e mi raccomando vi aspettiamo per la prossima puntata dell'arte e la bellezza, ovviamente, attenti a quei due, io, Amanda De Mar, e il grande artista Omar Ronda. Ciao! Ciao a tutti! A presto! Ciao! Evviva! Ciao! Ciao!